Gentili telespettatori, buona giornata. Questo video ve lo faccio dall'hotel in centro a Città del Messico e sono qui per rifare il passaporto mio e dei miei figli. Ma ho trovato il tempo, qui è notte quasi, per farvi un video da Città del Messico, una megalopoli. Parliamo della riforma della giustizia al via tra le liti. Il Movimento 5 Stelle fa un po' di bagarre poi Draghi, media. Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità gli emendamenti proposti dalla Ministra Cartabia, Ministra di Grazia e Giustizia, sulla riforma del processo penale. Ora il testo della stessa c'è ed è unanime il voto nel Consiglio dei Ministri. È stato proprio varato quindi ieri notte dal Consiglio dei Ministri in CDM al termine di una giornata convulsa, ricca di colpi di scena, contrattative, rilanci ed ennesimi tentativi di rinvio che hanno trovato il Premier Mario Draghi irremovibile. E questo lo sapevamo già, che Mario Draghi già qualche notizia era trapelata, che lui ai suoi dice io questi ministri meno li vedo e meno li sento, meglio è. Questo per farvi capire quanta stima ha il Premier dei Ministri. Ma su questo è come potergli dar torto, insomma. I politici che abbiamo oggi sono dei politici per caso, gente che è stata eletta con i voti su Whatsapp o su Facebook. Da una parte c'è un signore con una carriera economica straordinaria, dall'altra parte ci sono quei politici per caso, come li chiama Calenda, gli scappati di casa, come dice Giorgia Meloni, dei passanti. Come dargli torto a Mario Draghi. E poi intanto Forza Italia e Italia Viva hanno paventato di sfilarsi dall'accordo, mentre Draghi ha inasprito i toni e ricomposto ogni dissenso con un forte richiamo alla responsabilità. Gli ha detto firmate basta fare praticamente i bambini dell'asilo. L'ipotesi circolata aveva generato forti contestazioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Ci sono state due riunioni, la prima ieri mattina con i ministri e la seconda nel pomeriggio con i capigruppo del Movimento 5 Stelle che avevano optato, quelli del Movimento, per una stensione tattica. Idea subito bocciata dal Premier, così come la richiesta del ministro capofila dei 5 Stelle Stefano Patuanelli di un ulteriore slittamento. I 5 Stelle perché volevano e vogliono fermare la riforma della giustizia? Probabilmente non sanno neanche cosa c'è scritto in questa riforma della giustizia, ma quella che c'è, diciamo, sapete che prima c'era il loro Alfonso Bonafede, ministro della giustizia, che aveva fatto la sua riforma contestatissima e ora loro non vogliono che si cambi quella del loro ex ministro, ma è tutto lì. Loro non vogliono che si cambi ma non sanno neanche di cosa parlava quella precedente e di cosa parla quella attuale. Voi direte, ma possibile? Ma che tristezza? E questi sono i politici che abbiamo in Italia, dei politici per caso. Già è tanto che riescano a decifrare, a leggere qualcosa in un consiglio dei ministri. Bene, per superare quindi il problema dello stallo, si è andati incontro alle richieste della sottosegretaria 5 Stelle, Anna Macina, aumentando il tempo a disposizione per processi di corruzione, concussione e una serie di altri reati, non solo contro la pubblica amministrazione. In quel caso il processo di appello potrà durare tre anni e quello in Cassazione 18 mesi. A Forza Italia non è piaciuta questa novità che ha chiesto l'interruzione del Consiglio dei Ministri. Naturalmente Forza Italia fa quello che dice Berlusconi, chiaramente, ecco, dietro le quinte il manovratore è Berlusconi. A sbloccare di nuovo poi la situazione è un ementamento di Giorgetti, numero due della Lega, che riduce la discrezione del giudice sul giorno dal quale far scattare il blocco della prescrizione. Alle nove di sera finalmente l'accordo che lascia spazio a ciascuno per dichiararsi vincitore. Dal PD che lascia trapelare una riforma che garantisca tempi certi e ragionevoli per la durata del processo, a garanzia delle parti coinvolte. E passiamo a Italia Viva con Matteo Renzi che dice questa non è la riforma che sognavamo ma sbianchetta la riforma buona fede. Dalla capodelegazione forzista al governo Maria Stella Gelmini di Forza Italia dice l'Italia fa un significativo passo avanti nella modernizzazione della giustizia e nella velocizzazione dei processi. A Giulia Buongiorno, avvocato di Salvini, avvocato della Lega e senatrice, dice beh quella cosa che aveva fatto buona fede è stata finalmente superata. Mentre all'opposizione Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, invoca una riforma rivoluzionaria della giustizia. Ebbè, gli stessi Cinque Stelle che rivendicano a sé il merito di aver riallungato i tempi del processo, breve a una lunga lista di reati. Oltre corruzione e concussione, dal peculato alla malversazione, all'induzione, a promettere utilità, all'abuso d'ufficio, alla rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio. Vantano di aver fatto togliere dal testo l'ipotesi contenuta nella bozza. Quindi abbiamo dei Cinque Stelle che si vantano. E loro si vantano. Dicono, ma di cosa vi vantate? Loro si vantano. Perché ti vanti? E vi vanto e basta. Ecco. Insomma, abbiamo capito che dietro il pensiero dei Cinque Stelle non c'è nulla spesso, lo zero assoluto, il nulla eterno, un cielo plumbeo, un cielo con tanta nebbia. Beh, insomma. E rimarcano sempre i Cinque Stelle perché loro sono così, loro rimarcano, esultano, hanno esultato anche della raggi che è passata dal centoquattresimo posto su centocinque come peggior sindaco italiano al novantaquattresimo posto. Loro esultano. E vabbè, insomma, contenti loro, contento Grillo, contenti Conte, eccetera, eccetera. E ricamano che è stata modificata anche l'ipotesi iniziale di dare al Parlamento il potere di indicare le priorità per l'azione giudiziaria. Nell'ultimo testo alle procure viene lasciata maggiore autonomia di decidere. Tra le novità previste nella riforma anche la messa alla prova dell'imputato. Se chi è indagato accetta percorsi risocializzanti o riparatori può evitare il processo per reati punibili fino a una pena non superiore ai sei anni. Che cosa sarà mai un percorso risocializzante? Quindi se voi dovete andare in carcere per cinque anni potete fare un bel percorso risocializzante. Dice, che stai facendo tu? E sto risocializzando, lo prevede la legge. Oppure sto facendo un percorso riparatore. Dice, ma che ti ripari? E' un percorso riparatore. Insomma, c'è percorso e percorso. Insomma, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti da Città del Messico.